E' pronta la Marzetti per il suo terzo tentativo sulla quota di 4 metri. Si muove veramente tanto la stricella ma rimane su molto bene, la Marzetta continua sulla penata dell'asta. Ma ora Dario Dercas, triplo. Sì, sì. Noi siamo sempre pronti al bello. Vediamo un po'. Questa è una pedana importante. Vediamo e attendiamo. Sempre con trepidazione dalle pedane. 14.05 la pone nella quinta posizione, ovviamente parlano di Ottain, dopo il 14.81 della Maltides. Quindi la Maltia è... Noi siamo sempre pronti al bambino. Vicente, la mia prevedaca.